Ciao amici, oggi un video è un po' diverso, anche perché a differenza da tutti i giochi che ho portato su questo canale, oggi porto un gioco che è nato per telefono, anche se si può giocare anche a computer, e questo gioco è dedicato ad un anime, barra manga, che adoro molto, che è Seven Deadly Sins, Nanatsu no Tazai, e quello che volevo farvi vedere con questo video è cosa abbiamo combinato ieri sera in live, dove abbiamo cercato di trovare un personaggio che voleva tantissimo, che era Meliodas Lost Vane, l'avrò trovato? Chissà, io vi lascio il video e se vi piace vi consiglio di scaricarlo, ad ogni modo, come sempre, vi lascio il link in descrizione per seguirmi anche sul sito Viola, dove siamo in live, anche stasera. Ad ogni modo, iniziamo ragazzi, perché tanto è inutile si ergiversare, c'è anche da giocare a Fall Guys dopo, quindi meglio muoversi. Allora ragazzi, ci sono tutte le... Ecco, ecco, Sam ci ha fatto raggiungere il livello 2, ringraziamo e mandiamo un bacione a Sam. Ragazzi, ora siamo in livello 2, ecco, tra il livello 2, con il livello 2 partiamo con la prima di queste 30 evocazioni, sperando vada bene. La musica si sente del gioco, perché io l'ho messa molto molto bassa, però se mi ritengo la sentite l'alzo un pochino. Allora, vediamo un po' come va a finire. Io non schifo quasi mai, quindi ce le esorbiamo tutte le animazioni. Spada! E io in realtà, ragazzi, me le sono guardate queste animazioni online e non ci ho capito niente. Quindi vado sempre a istinto, così, c'è nel senso, io me le guardo, le animazioni, tipo questa abbiamo perso, quindi penso sia uno schifo totale, ma proprio schifo, molto probabilmente, e quindi è schiffabile. Mi dirà anche Zacoro, ma penso di sì. Che tra l'altro a me, di, diciamo, i PG rari che ci sono in questo set mi mancano quasi tutti, quindi ragazzi, mi mancano quasi tutti, io sono anche contenta di pullare qui, perché almeno mi faccio un po' di Pokédex anche su questo gioco, perché io prima di tutto sono una collezionista maniacale, quindi sono contenta se trovo i PG che mi mancano. Ora, Baffino, che se anche te parte della family mi devi aiutare anche te, insieme a Zacoro, che voi ci avete giocato, barra ci avete giocato, a capire che cosa c'è. Allora, animazione grigia, pessimi, animazione dorata, qualcosa di me, animazione tutta arcoballenata, c'è un PG raro, funziona così. Ok, io però a questi vado avanti così. Ti piace, Puffy, Sammy? Le ho fatte io queste moticon, le ho lavorato io. Allora, vedete che sono a 39 perché avevo tipo qualcosa di non preciso, non c'erano tot cristalli precisi, quindi me le sono fatte da sola quelle altre. Comunque, allora ragazzi, il mio obiettivo è trovare Lost Vane. Se dovessi trovarlo tanto prima, bene, se no, mi sa che mi soccosarle tutte. Tanto non è che ci sia altro che aspetta, anche perché io derrieri fortunatamente l'ho trovata, quindi in questo momento non sto cercando nient'altro. Questa rossa me l'hanno messo coin. Qua Zacoro dice addirittura di schippare. Questa è la blu, no? Quando perde le botte schippa sempre, va bene. E allora ci fidiamo. E infatti... Ok, andiamo avanti. Io prevedo una shaftata di quelle micidiali, ve lo dico già. Ma proprio terribile, terribile. Anche perché con derrieri sono stata troppo fortunata. Con 60 gemme me le sono portate a... 61, perché derrieri rossa l'ho trovata in una. In una, quindi 63. Me le sono portate a casa tutte e due. Quindi lì mi sono sentita molto fortunata e oggi non sarà la stessa cosa. Oh, qui ce n'è uno! Non l'avrei detto! Vedete, c'è l'animazione viola, quindi ce n'è uno. Esatto, qui ce n'è uno. Vediamo un po'. Vediamo un po' che cosa c'è. Ciao, Lori, portami fortuna! Eh, aveva la spada, sì, eh. Allora, vediamo. Vediamo. Vedete bene comunque il gioco? Si vede bene? Grande, giusto e tutto? Perché è la prima volta che lo porto. Quindi ho fatto tutte le impostazioni oggi per vedere come... Sì, se la trovo ragazzi si va via praticamente perché non penso proprio. Anche perché ho detto ci dovrebbe essere Occhi insieme a Meliodas. Quindi mi sa che no. Mi sa che no. Vediamo un po'. Sì, ciao Davide, nemmeno morta. Anche perché non ho i soldi per farlo. Ma quelli sono dettagli irrilevanti. Eccoci. Merlin, niente. Grazie mille, Zach, per il buona fortuna. Mi raccomando ragazzi, contribuite al pool. Tra l'altro, Zach, hai sbloccato il ringraziamento. E il ringraziamento che ti faccio, perché sbloccate il ringraziamento, è di aver donato off-live, e nessuno l'ha visto, 500 bit. Quindi, grazie mille. E Frank, buonasera. Continuiamo, raga. Tanto voi spammate Emoticon perché è stata riscattata una chat solo Emoticon. Eccolo, Occhi. Dai, dai. No, fa schifo sta pullata, mi sa. Quando show, Occhi, poi fa schifo. Vediamo un po'. Ragazzi, Life Train è finito. Ringraziamo tutti i partecipanti. E godetevi le vostre nuove Emoticon. Vediamo. Magari vince. No, perso. Giuff, giuff. Addia al trenino, ragazzi. Schippa. Proprio triste. Quando mi dice schippa ci rimango male. Però del resto. Ok, va bene. Avanti. Per ora, la miseria è piuttosale. Almeno Derriere ci aveva il coso aumentato, le probabilità di spawn. Qui, terribile. Non lo so perché l'hai ricevuti. Qui ha perso, ragazzi. Quindi ne ha prese. Direi che si schippa di nuovo. Ma aspetto Zacuro, che è il mio consigliere ufficiale. Ecco. Questa è proprio pessima, ragazzi. Secondo me qui sono tutte R. Ragazzi, allora. Questa la voglio solo vedere. Perché secondo me sono tutte R. Ah no, c'è un SR. Pensavo di no, invece. Ah, vabbè. Ce ne sono due. Capirai. Terribile. Terribile. Andiamo avanti. A me ne è giorno. Anche se non serve a niente. Però al me ne è giorno. da vedere. No, infatti no, ragazzi. Questa la aspetto. Un po' di Davide non mi fido. Ora la schippo. Di Davide non mi fido perché non ci gioca. Ciao Luca, buonasera. Oddio, Luca è arrabbiato perché c'è una sub donata e non è lui il primo. Ciao, sono Vic. Grazie per il follow. Benvenuti in live. Bene, bene, bene. Luca è già arrabbiato. Vai. Andiamo. Luca, non ti arrabbiare. Oddio, tutta volta c'è il maiale, c'è il cielo blu, c'è il cielo scuro. Luca, non ti arrabbiare. Siamo qui. Ah, fa volta tu, Luca. Lei ha aperte le gemme. No, ne avevi tre. Ecco, qui ce n'è uno. Qui dovrebbe esserci uno. No, zaccuro. Malissimo, non malino. Io me l'auguro. Fazzi, me lo auguro. Almeno si smette subito e si va su Fall Guys. Che mi riesce meglio. Ma non mi sa. Mi sa che meglio adesso esce in una pullata di quelle belle. Non penso in una di queste scrause. Zaccuro, io volevo chiedere a te in realtà. Che faccio? Tanto il mio box più o meno lo conosci. Ma io non ci credo che essi qui. Secondo me, raga, ce la faccio dare fino all'ultimo, come è successo a tanti di quelli che ho visto. È un altro giocatore incallito? Vediamo un po'. No, a parte no, il bagnale non c'era. Ah, sì, c'era. Era per quell'Elisabeth. Ah, ce ne sono addirittura due, raga. Quindi è la fine. Oh mio Dio, quante pullate sono? Cinque? Oh mio Dio. No. No, non ci credo. Era quello che cercavo, Lori. Lori. Oh mio Dio, ma quante gemme abbiamo trovato? Cioè, quante ne abbiamo usate? Cinque pull? Sei? Non so. Ma io qualche altra la tiro. Ehi, Ricky. Ciao, bentornato. Ecco il king degli hashtag, ci eri mancato. No, Sam, un po' mi hai portato a fortuna. Vabbè, raga, sentite, io comunque dei PG di queste pull mi mancano quasi tutti. Ma ora vi faccio vedere, vi faccio vedere tutti quelli che mi mancano, così capite se vi dico che voglio continuare. Perché a me ne mancano... Mancano... No, non ci credo. Tra l'altro non posso fare lo screen con il telefono. Screen ero la live. Screen ero la live.